Il sindaco facente funzioni di Castellabate, Luisa Maiuri, pone un freno alle occasioni di assembramento, emettendo l'ordinanza numero 60 dell'11 novembre 2020, che dispone alcune misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria valide fino al prossimo 3 dicembre. Si decide di sospendere i mercati settimanali del sabato a Santa Maria in Piazza Mondelli e del martedì a San Marco in Piazza Passaro. Viene inoltre prorogata la sospensione di tutte le pratiche di trasferimento di residenza e domicilio presso il comune di Castellabate già disposta nell'ordinanza numero 58. Si intensificheranno soprattutto nei fine settimana le operazioni di controllo ad opera della Polizia Municipale relative al rispetto delle misure anti-covid al fine di contenere gli assembramenti e la movida giovanile, oltre al rispetto del distanziamento sociale e all'utilizzo corretto della mascherina, dobbiamo evitare assembramenti, dichiara il sindaco Luisa Maiuri. Tali restrizioni si rendono utili allo scopo di ridurre la mobilità non necessaria.